Ciao e bentornati, io sono Valerio Novara di Ciacca e Zione. Con un nuovo poster promozionale la produzione di The Crown e Netflix hanno riesceso i riflettori sulla quinta stagione che andrà in streaming dal 9 novembre sulla piattaforma Netflix. Il poster che abbiamo postato sui nostri canali social ci rimanda a un universo il cui equilibrio si sta sfaldando, la narrazione si concluderà nel 97, infatti, anno della morte di Diana Spencer. Cavalcherà alcuni dei periodi più complicati per la famiglia della regina Elisabetta, tra cui quel 1992 definito Annus Horribilis dalla sovrana d'Inghilterra. Per prepararsi alla visione di quello che ormai è diventato un vero e proprio evento televisivo abbiamo raccolto noi di Ciacca e Zione un po' di news, anticipazioni, foto e spoiler su The Crown 5, ma anche sull'ultima stagione, la sesta, che sarà presumibilmente online dal 2024 e chiuderà il percorso televisivo di una serie amatissima. Nei giorni successivi alla morte della regina Elisabetta II, la produzione della sesta stagione è stata messa in pausa in segno di lutto, ma è poi ripresa comunque per garantire l'uscita a due anni dal quinto capitolo per non bloccare comunque la macchina organizzativa di una serie così attesa dal pubblico. La lucandina della quinta stagione di The Crown anticipa il mood del capitolo in arrivo in streaming nel mese di novembre, che racconterà in particolar modo gli anni più faticosi per la regina e per la sua famiglia. In particolare, come vi dicevo, la nuova stagione si focalizzerà sul 1992, anno dell'incendio al castello di Windsor, in cui sono state formalizzate le separazioni di Carlo e Diana, del principe Andrea con Sarah Ferguson, e della principessa reale Anna dal suo primo marito Mark Phillips. Così come nella quarta stagione, con la Diana magistralmente interpretata da Emma Corrin, anche nel prossimo capitolo verranno raccontati i tormenti della principessa del Galles con l'ormai tristemente famosa intervista a Martin Bashir della BBC, che sarà al centro della scena. Recentemente la rete è finita al centro delle polemiche, dopo l'ammissione che l'intervista è stata estorta, con inganno e manipolazione a una Diana che era molto fragile e spaventata in quel periodo. Quel colloquio però lo rivedremo comunque nella quinta stagione di The Crown. Tra l'altro, esattamente come il Trono di Spadi, anche per The Crown si sta pensando a una serie di spin-off per raccontare altre storie rispetto a quella raccontata nello show originale. Si discute, per esempio, in particolare di cinque spin-off di The Crown che dovrebbero riprendere altrettanti momenti e personaggi importanti della storia della dinastia Windsor. Nella sesta e ultima stagione, che verrà presentata nel 2024, entreranno in scena anche William e Kate. Dopo tanto cercare, sono stati finalmente trovati gli attori che interpreteranno il principe William e Kate Middleton ai tempi dell'università. L'erede al trono avrà due volti però, uno più giovane e l'altro più maturo. Sono stati scelti, nel dettaglio, Rufus Campa e Dead McVeigh per il ruolo del principe 17enne e poi 21enne. E Meg Bellamy, invece, interpreterà Kate Middleton. Non vedo l'ora, come tantissimi altri, di vedere questa quinta stagione. Io vi consiglio di seguirci, di iscrivervi al canale di Ciacchiazione, e di seguirci anche sui nostri canali Facebook e Instagram per rimanere aggiornati su questa e tantissime altre notizie dal mondo delle serie TV. Ciao!